Ciao amici, sono Locky! Ho visto che mi hanno creato come se fossi un poster della Disney Pixar E quindi ho detto, perché non provarci anche noi? Oggi faremo tutti gli youtuber che conosciamo, iniziando da Lockino Locky, ma Lockino non è uno youtuber! E invece no, perché Lockino ha creato un canale, lo potete trovare qui sotto in descrizione Iscrivetevi perché caricherà video Ha detto, ma posso fare uno youtuber? Va bene! Abbiamo cercato Lockino con il suo amico Carlino Si chiama Carlino Guardate, l'ho presa la Games Week Lui è Carlino E alla Games Week ho trovato anche qualcos'altro Cioè, Lion! Faremo anche Lion, ma aspettate un secondo Quel Carlino sta guardando in camera per dire Papà, non mi abbandonerai, sono a zattera, vero? Wow! Questo è il più bello di tutti! Disney Locky! Il creeper che sta esplodendo C'è una piccola esplosioncina Però bella la fabbrica di giocattoli E papà, appena rubato una penna! Il creeper arriva Quindi, un bambino che sta mangiando una banana La buccia della banana fa scivolare Spider-Man Ok Non mi aspettavo questa cosa! Lockminio! Oddio! Che cosa è successo? Lockino, la tua testa Abbiamo sbagliato qualcosa Che cute! Quello è mio figlio! È mio figlio! Quello è mio figlio! Guarda, figlio! Sono in televisione! Che bellino Lockino che sta abbracciando il suo canino Carlino Guardate che carino Questa cosa Che cosa ti serve Lockino Quella con liquido blu? Beh, carina Lockino con due I Da quello che ho capito I testi li sbaglia sempre Però guardate che bello Ma perché c'è sempre qualcosa da bere Lockino? Lockino, non mi vuoi dire Che stai negando i tuoi problemi col bere? Ma creiamo il prossimo! Io e Karin La mia ragazza La conoscete? Karin Quella con i capelli arcobaleno E questi siamo noi! Mi assomiglia un po'? Non riesco a farle i capelli arcobaleno Non mi chiedete perché non riesco a farle fare i capelli arcobaleno Che è qui Io Lei ha i capelli arcobaleno Io ce li ho Castani Perché? Questa invece è molto meglio Chissà che cavolo stiamo giocando? Roblox forse Col joystick Non lo so Si può giocare con Roblox col joystick Il gatto mangione ciccione Guardate un po' chi c'è Chi c'è? Sei tu quella? Karin Prossimo youtuber Lion Al Games Week ho fatto una foto con Lion E deve usare così Proviamo a ricrearla In stile Disney Pixar Magari voi non mi seguite su Instagram Però se mi ricreate Su questo bing.com Potete mandarmeli su Instagram Qui ero con Karin E poi sempre con Karin Queste sono le carte firmate di Lion Che mi ha regalato E il peluche di Locchino Cioè questo qui Ma ne avevo un altro Glielo ho dato a lui Gli ho detto Fallo sbranare da Kara E Kara fa L'ha mangiato Ok Questa è la cosa che più si avvicina All'immagine La mascherina Con su un naso C'ha il tramonto sulla maglia Con scritto Orda Sulla mascherina Ho appena distrutto tutto Il mio Venom Mentre adesso voglio fare il nostro caro amico Surry Non è mio amico I suoi amici lo chiamano Surry Avevo in mente qualcosa di un pochino più carino Surry Easy peasy Lemon squeezy Surreal power Ho voluto mettergli un limone in bocca Non chiedetemi perché Però io lo vorrei vedere il film Surry Se mi stai vedendo in questo momento Surry Non lo so è lui che fa gli investimenti online Però forse avremmo dovuto farlo più elegante Ecco già questo è un pochino più Surry Lo amo Surry Surry mi ha accompagnato nella mia infanzia Io sono più vecchio di lui Però guardavo sempre le sue serie di Minecraft È stato un mito per me E dato che voglio tanto bene a Roby Abbiamo creato Roby nel deserto Stai bene? È il tuo habitat naturale Ma perché lei viene così bene? E per non farci mancare nulla anche la sua amica L'abbiamo messa a suo agio In un film horror Fa sempre quelle cose paurose Jenny Però è sempre lei La maglia è uguale Anche la coroncina Ok questa fa veramente paura Una bambola assassina Jenny stami lontana L'ho voluta fare ancora più horror L'ho fatto una bambola Una bambola assassina Jenny La bambola assassina Vieni qui che ti uccido No qua è Danny E adesso facciamo Lorenzist Lorenzist Bingo Cosa stai facendo? Lavori in corso Gli scevoli sono momentaneamente in manutenzione Ma perché nessuno ha mai fatto un gommone banana? Disney Pixar Lorenizist Bellissimo Voglio una di quelle banane Scherzo voglio bene a Roby Mi si scalda il cuore a parlare di lei È passato un altro giorno Perché vedete questi fulminini qua? Purtroppo scadono E bisogna aspettare il giorno dopo Si può creare un altro account È vero? Però guardate che bellina L'ultima volta l'abbiamo messa nel deserto Adesso l'abbiamo messa nel suo habitat naturale Questa non sembra tanto Roby Però l'orso polare Sì Questa Può sembrare Roby? Oh Qui ci siamo Questa è Roby Disney Pixar Roby Ehi Roby Posso entrare lì dentro Sembra faccia un po' caldino Ed abbiamo messo che sta giocando a Roblox Perché viene così bella? Invece le mie vengono brutte Per favore createle anche voi E taggateli su Instagram Mi chiamo Locuno L-O-K-A-K-A-1 con il trattino basso Ed ecco Marci Finalmente No Ho lasciato il titolo Roby Roby non è questa Se voi state pensando che questa è Roby Non è Roby Roby da grande Quando gli crescerà la barba Gli occhiali ce li ha Roby Ho sbagliato Questo è Marci Il costruttore di Minecraft Questo sembra tanto Marci Proviamo a rifarlo Ed ecco a voi Il vero Marci È fantastico Marci Il minatore Marci il costruttore È lui L'inimitabile Disney M-Car Marci E questo invece è Marci da grande Ok senza occhiali Perché si è fatto l'operazione agli occhi Ma a proposito di giallo Facciamo Che noia Ed ecco a voi La vostra Yandere Che noia Con la schiera di ragazze Quelle ragazze sono tutte morte in realtà Che noia è famosa per giocare a Yandere Lei la Yandere di Youtube Mi piace un ragazzo Muoiono tutte Non so se ci assomiglia tanto Qui ho sbagliato Questa è Marci Questa è Marci Diventa donna Vabbè Però questa secondo me È la più bella di tutte Eh no c'è scritto ancora Marci Sbaglio sempre Marci Un film di Nagato Koyasaki Non dovevi rubare i miei diamanti Ora ti ucciderò E questa è Karin Su Adopt Me La seguite su TikTok Lei su TikTok fa le live dove gioca ad Adopt Me È venuta Sì è carina Le ho detto che stavo abbracciando un draghetto È carino Però non so perché il drago è verde Esiste un drago verde su Adopt Me? Mi dice che esiste Allora va bene Perfetto Karin Guardate quanti draghetti ci sono E questi sono tutti quelli che giocano ad Adopt Me Karin Mi regali un pet Mi regali un pet No i pet sono suoi Ho voluto far Federick Era più difficile del previsto Questo dovrebbe essere Federick Con un Charmander Che ha il taglio tipo da samurai Quindi io ho scritto Taglio da samurai Bam Questo è diventato un ninja E sta unboxando il suo primo Charizard Non quello che pensavo Non so perché mi fa un samurai Gli ho sottotetti i capelli da samurai Pedricks è un samurai Ed ecco a voi Sbrizer È lui C'è solo un problema Mancano le donnine Eh sì Dobbiamo mettere un po' di donnine attorno Quindi E vai È lui Guardate Paroth Che vuol dire pappagallo in inglese Non so perché l'abbia messo sulla maglia Il titolo doveva essere Sbrizer È diventato Paroth Sbrizer Konichiwa Senpai Dovevo mettergli gli occhi a cuore Forse dovevamo fare che era lui che inseguiva le donzelle Non il contrario Adesso proviamo invece Thanos Perché sto per riniziare la Bedcraft Che è una serie con Thanos Proviamo a vedere se Thanos fosse uno youtuber Giusto in italiano Non è che voglio fare come Joker Ho scritto Un ragazzo viola Con il mento grosso E una armatura dorata Facendo video per YouTube Giocando a videogame A lui A mio Dio È Thanos youtuber Io mi iscriverei al suo canale Non ho scritto Thanos Ho solo detto Un ragazzo Col mento grosso viola Che bellino Sta giocando ai videogames Iscrivetevi tutti a Thanos E un mi piace Per il ritorno della Bedcraft E questa è la mia ultima Creazione per oggi Ok ho voluto fare Max random È uscito proprio Totalmente random E gli ho detto Che doveva giocare a Fall Guys Non credo No questo è un po' Fall Guys Sta un po' giocando a Fall Guys Alcuni sembrano dei Fall Guysini Anche se lui gioca a Stumble Guys Bellino Carino No deludente Per oggi è tutto Iscrivetevi qui sotto Al nuovo canale di Locchino E su questo qui invece Iniziamo la Bedcraft Chi vuol vedere la serie con Thanos Si iscrive Da Locchia è tutto Ciao 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 Grazie a tutti